Buonasera fans, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, naturalmente, e quindi troveremo anche degli argomenti che saranno molto interessanti, naturalmente. Allora, io sono Veronica Rossi, lo sapete, e quindi vorrei parlarvi questa sera di qualche cosa che mi fa molto molto piacere. Molti fans mi scrivono, però alcuni, alcuni mi adorano, direi tantissimi mi adorano, e sono la maggior parte. Però qualcuno, qualcuno invece, cosa fa? Quel qualcuno mi critica abbastanza pesantemente. E quando metto delle immagini, dei filmati di me da sola, ok, ma quando metto dei filmati con, per esempio, Alex Magni, eccetera, vedo che le critiche sono molto molto più accese. Allora, io vorrei dirvi che, se non mi volete vedere con altri voice, vuol dire che siete gelosi. Molto, ma molto, ma molto, 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 chiaro il ragionamento, vero? Quindi, a un certo punto, io credo che voi siate eccessivamente gelosi di quello che è il vostro sentimento di amore dei miei confruttori. Però, non dovete esagerare, perché sono persone con le quali io lavoro, lavoro da molti anni, naturalmente, e quindi ho con loro un rapporto di, naturalmente, di fiducia, quindi di professione come attrice. Quindi dovete, dovete un pochettino moderarvi nei vostri giudizi, nei vostri commenti. Questo è ciò che vi chiedo. Ok? La vostra Veronica Rossi.